Ciao connessionati, vi lascio subito allo spezzone e dopo lo spezzone, che probabilmente qualcuno di voi ha già visto, vi aspetto per dopo per fare un discorso tra me e voi. Ehi Chris, a quanto pare non ti entravano i colpi. Nove danno con un pompa, che disdetta. Ma aspetta, tu chi saresti? Io sono Gesù. Ma Gesù non aveva la barba e i capelli lunghi. Sono passati 2019 anni, caro, avrò anche il diritto di cambiare stile. Si vede che non capisci una mazza. Ora va di moda questo cappellino da 50 centesimi. Ah, ok. Comunque, prima di determinare il tuo destino, vediamo quello che hai combinato in vita. Ah, vedo che hai ucciso 1456 persone, non va bene. Hai ballato davanti a 738 nemici a terra. Hai usato la skin di default per fingerti un no skin per una settimana intera di fila. Non rianimavi i compagni nelle 50 contro 50. Non va bene, Chris, non va bene. Ah, ma c'è scritto qui che usi il codice OctiPFI come supporto a un creatore nello shop. Allora è tutto perdonato. A quanto pare, quindi, non andrai all'inferno. Credimi, non è un bel posto. Non vorresti trovarti nei panni di quel tipo. Non sei iscritto al canale di Pura Fibra Italiana e non ha nemmeno attivato la campanella. Davvero terribile. Comunque, divertiti in paradiso. Ciao! Questo non sarà un video come gli altri, non sarà un video di 10 minuti. Sarà un video dove un po' parlo con voi, proprio così, direttamente, senza un copione, senza qualcosa di già scritto. Semplicemente volevo ringraziarvi perché diciamo che ormai YouTube è il mio lavoro, ma come lavoro non è una di quelle cose che mi fa diventare milionario e cose di quel genere lì. E praticamente la gran parte, se non più della metà, eccetera, eccetera, dei miei guadagni, è supporto a un creatore. E grazie a tutti voi che mi sostenete nello shop col codice. In questo momento esatto sto guardando, siamo a 3442 sostenitori. E veramente vi devo ringraziare tantissimo. Perché è solo grazie a voi che credete in me, che mi sostenete nello shop, se io sono qui, se io sto facendo i video e se non sono a zappar la vigna o fare qualsiasi altra cosa. Volevo davvero davvero ringraziarvi. Si sa che YouTube non paga, si sa che la gente va su Twitch apposta perché Twitch paga sicuramente molto più di YouTube a parità di ore di lavoro che ci stai dietro perché voi vedete un video da 10 minuti, vi lamentate eh l'hai fatto da 10 minuti per la pubblicità, invece magari dietro ci sono un'ora e mezza, due, tre di lavoro. E quindi di conseguenza quando poi quel video ti fa guadagnare tipo 20 euro, dici se andavo in live su Twitch tre ore facevo tipo 20 euro solo di donazioni e tutto il resto. Veramente, veramente, veramente grazie di cuore, dal profondo del mio cuore, dal profondo di qualsiasi cosa. E ho deciso di fare questo video anche in seguito a un'email della Epic che fa Ciao Octavian, siamo felici di annunciare l'offerta Epic Mega Sale. Ogni giorno fino al 13 giugno troverai una gran quantità di fantastici titoli in offerta e un nuovo gioco gratuito ogni settimana. Epic fornirà anche un ulteriore sconto di 10 euro su qualsiasi gioco al costo di 15 euro superiore. E per rendere questa offerta ancora più mega, raddoppiamo il tuo ricavo per tutti i titoli, Fortnite non è incluso. Ricorda il tuo tag e i tuoi link creatore che possono essere usati per tutti i giochi del negozio Epic Games, inclusi i preacquisti. Controlla il tuo dashboard di supporto a un creatore per prendere i tuoi link creatore e controllare il tuo ricavo per la durata dell'offerta Epic Mega Sale. Questo è un evento e una grande opportunità per pubblicizzare i tuoi tag creatore e i tuoi link creatore. Durante l'evento ci saranno tantissimi giochi in offerta, annunci di nuovi giochi e pubblicazioni. Allora ragazzi, io vi lascio in descrizione i link di tutti i giochi. Quindi qualsiasi gioco voi vogliate, quando andate a shopparlo, se volete sostenermi siete liberissimi di non farlo. Se lo fate, inserite il codice OPTIPFI, quello che trovate scritto sotto di me, maiuscolo, minuscolo, è uguale. E se mi mandate le foto su Instagram, io comunque cerco di ripostare tutti. Chiaramente ragazzi, ho 53.000 follower e comunque sono 3.000 persone che mi supportano, che mi mandano le foto. A volte è difficile ripostare veramente tutti, io ci provo, ne faccio una decina al giorno, una decina ogni due giorni. Comunque ci provo, almeno mantengo le promesse e riposto, cioè se andate a vedere su Instagram trovate le storie delle persone che riposto. Quindi davvero, davvero grazie di cuore, veramente, veramente per tutto il sostegno e tutta la fiducia in me che avete. E vedrete che la connessione pura non ci abbandonerà mai.